La sanità è una delle competenze di maggior peso, di maggiore importanza dell'ente regione. Parliamo di tutto questo con il dottor Stefano Liuzzi, candidato con la Lega al Consiglio regionale pugliese a sostegno di Raffaele Fitto, presidente. Dottor Liuzzi, lei è un medico, quindi parliamo di sanità con un addetto ai lavori. Ed è una cosa difficile, non perché non conosca la materia, ma perché ci svivo dentro, per cui avrei bisogno non di 3-4 minuti, come è giusto che sia in questa intervista, ma forse di qualche ora per parlare di sanità, dei problemi della sanità, che poi sono quelli che vive chiunque. Io faccio il medico di base e io vivo veramente la difficoltà delle liste d'attesa per una risonanza magnetica, per una visita specialistica. Siamo arrivati all'assurdità che i viaggi della speranza ora non si fanno più solo verso il nord, si fanno verso Matera anche, dove nel giro di due giorni si è in grado di fare una risonanza magnetica. Quindi la mobilità passiva? La mobilità passiva. Allora, qual è il problema della sanità? Il problema della sanità è innanzitutto evidente quello delle liste d'attesa. Come si possono risolvere? Ma io una mezzeria ce l'avrei, come si è fatto anche in altre regioni, permettere di fare le indagini, le indagini strumentali, le visite specialistiche, visite che i medici fanno i turni, anche fino a sera, non bloccarlo alle 14 quando finisce il primo turno. Basta spostare fino a sera anche le visite e le indagini strumentali e si può dare un buon incremento all'esecuzione di queste visite. ancora, per esempio, fare la mattina gli esami strumentali o le visite per chi viene dal territorio e per chi è ricoverato spostarli nel pomeriggio, quindi permettere anche alla gente, alla mobilità che deve spostarsi, legata spesso agli anziani ai mezzi di trasporto, poter essere facilitati nell'accesso. L'altra cosa importante, lo sviluppo, ma vero, della medicina territoriale, noi medici di base a volte ci sentiamo abbandonati. Vi faccio un esempio che chiarisce la situazione, periodo di Covid, noi medici di base saremmo dovuti essere, a mio avviso, la prima sentinella sul territorio. Sapete che cosa ha detto Emiliano? Non ha avuto il coraggio di scriverlo, di dare un'indicazione scritta. Ha detto che i medici di base e i pediatri di libera scelta non devono più lavorare, devono rispondere al massimo al telefono, devono tenersi pronti perché devono sostituire e prendere il posto degli eventuali medici che lavorano in ospedale e che si ammalano. Ora, io ho 35 anni di esperienza, però non ho vergogna a dire che se mi prendessero adesso e mi mettessero in un reparto di terapia intensiva, io farei più danni che il resto per mancanza di esperienza, o perlomeno finché non acquisisco la dovuta esperienza. Certo, perché ci vuole una specializzazione, qualcosa che non si acquisisce così. Certo, per cui ecco un problema, è sufficiente. E poi tra l'altro i famosi DPI, i dispositivi di protezione individuale, le mascherine, i camici, eccetera, noi medici di base li abbiamo avuti a fine maggio. Allora, cominciamo a curare veramente la medicina del territorio, noi medici di base, ripeto, possiamo essere il baloardo, le sentinelle del territorio, avere un rapporto più stretto con gli specialisti territoriali, si può smaltire tanto di lavoro che poi va a finire negli ospedali. E poi il problema ospedale è il pronto soccorsi, i pronto soccorsi ne sono stati chiusi un paio, io credo che siano necessari sul territorio, gli ospedali, il discorso ospedaliero a me come medico di base, i pazienti non chiedono, dottore, qual è l'ospedale più vicino, a me chiedono, dottore, qual è l'ospedale migliore per quella patologia. Quindi le tante strutture ospedaliere presenti sul territorio, in alcuni casi nuove, ristrutturate e chiuse, devono essere convertite per specializzazioni. Un ospedale non deve avere per forza tutte le specializzazioni, è una vecchia impostazione che nell'ospedale del paese ci sia la chirurgia, la ginecologia, l'ostetricia, la dermatologia, la pneumologia, no, la cardiologia è sufficiente invece determinare la specializzazione degli ospedali in modo da poter offrire il meglio possibile alla gente del territorio. Ripeto, a me medico non chiedono l'ospedale più vicino, chiedono l'ospedale migliore. Ripeto, a me medico non chiedono l'ospedale migliore. Ripeto, a me medico non chiedono l'ospedale migliore.